Questa di Marinella è la storia vera che scivolò nel fiume a primavera ma il vento che la vide così bella dal fiume la portò sopra una stella sola senza ricordo di un dolore vivevi senza il sogno di un amore ma un re senza corona e senza scorta bussò tre volte un giorno alla tua porta bianco come la luna il suo cappello come l'amore rosso il suo mantello tu lo seguisti senza una ragione come un ragazzo segue un aquilone Cosa sarebbe il mondo senza l'Italia e cosa sarebbe l'Italia senza il Made in Italy questo brand di garanzia che è conosciuto in tutto il mondo e che ci porta veramente all'interno di ogni contesto della vita sociale a livello internazionale. Mi trovo in questo momento in una location meravigliosa nel centro di Milano, la Zepter International, tra l'altro una delle donne protagoniste del libro da cui poi sarà legato tutto il nostro progetto della trasmissione è proprio Madame Zepter un grande simbolo di sensibilità, di bellezza e di valore al femminile tra l'altro lei è molto sensibile, è una donna veramente attaccata alla qualità e alla bellezza italiana è uno degli accessori più importanti nella vita appunto di chi deve vivere appunto con difetti visivi visivi sono naturalmente gli occhiali, però gli occhiali sono semplicemente un fatto faction ma anche un fatto assolutamente di intelligenza come questi che vediamo qui proprio a Zepter Prego Questi sono degli occhiali intelligenti che fanno anche però stile, sono molto belli come possiamo vedere ma la cosa importante di questi occhiali è la lente perché la lente contiene al suo interno la molecola fullerene C60 che è stata una molecola vincitrice di premi Nobel questa molecola, le sue principali funzioni sono aiutare attraverso la luce il nostro corpo a diminuire lo stress e la depressione quindi quando si indossano questi occhiali si ha un cervello che funziona meglio perché ci aiuta a vedere meglio, a iperpolarizzare la luce, quindi a portare la luce ad un livello armonico ideale sono adatti sia per essere portati all'esterno ma anche all'interno è molto importante portarli quando si legge, quando si sta guidando è molto importante e anche quando si è davanti al computer abbiamo sia l'edizione per gli adulti ma anche per i bambini e appunto i nostri bambini che in questi giorni stanno passando molte ore al computer per proteggerli e prevenire qualsiasi tipo di danno ai loro occhi è molto importante sono occhiali intelligenti come abbiamo detto ma soprattutto sono occhiali che fanno bene alla vita di tutti i giorni Prenotate in pratica dieci paia e quindi parlando di eccellenze di Made in Italy, insomma tutto ciò che riguarda fashion e style ora ce lo racconta Petra con un trattamento eccezionale il Bioptron è uno dei nostri trattamenti di Zepter che aiuta il nostro corpo in diverse maniere prima di ogni trattamento è importante utilizzare l'Oxy che è uno spray sterilizzato da mettere in questo modo su chi vuole fare il trattamento per poi andare ad accendere la luce questa è una luce molto importante e speciale perché è stata brevetata da Zepter questa luce passando attraverso il filtro va a colpire il corpo con un angolo di 90 gradi aiuta in diverse maniere, aiuta tutte le cellule del nostro corpo a riprendere il metabolismo alla funzione del 100% quindi se stiamo parlando di rughe aiuta a produrre collagene al 100% quindi a ripotenziare le funzioni se stiamo parlando di una ferita o di un dolore aiuta ad alleviare il dolore e a rimarginare la ferita poi si parla anche di dolore di testa, dolori intestinali ma serve anche a dare un boost di energia per qualsiasi giornata quindi serve sia a curare ma anche a prevenire insomma qualità, eccellenza italiana raccontiamo quindi storie che riguardano le donne quindi la luce, la positività, quello che ci circonda dopo tanti giorni di situazione assolutamente negativa naturalmente il nostro pensiero va alle donne che riescono a realizzare se stesse a valorizzare il proprio lavoro e le loro storie quindi viva l'amore e viva il nostro programma Made in Italia delle Donne abbiamo quindi bisogno di positività così come il titolo di questo splendido concorso concorso che ormai è giunto alla diciottesima edizione Art Zept naturalmente qui in inglese c'è proprio il titolo Light Optimism quindi luce e ottimismo al quale sono invitati tutti gli artisti e i design internazionali a partecipare il concorso di quest'anno si intitola Luce e ottimismo è giunto ormai alla sua diciottesima edizione e ci troviamo a Belgrado in questa Art House questo enorme progetto voluto dalla signora Zepter che quest'anno inaugurerà questa Casa delle Arti il progetto riguarda una scultura luminosa da esterni che farà parte del giardino di questo enorme complesso museale è aperto agli artisti di tutto il mondo ha un bellissimo, diciamo ci sono in palio tre bellissimi premi il primo premio di 10.000 euro il secondo premio di 4.000 euro in prodotti Zepter e il terzo premio in 3.000 euro di prodotti Zepter partecipare non costa nulla quindi invitiamo tutti i designer e artisti a partecipare le iscrizioni sono aperte fino al 15 giugno 2022 quindi tutti quanti partecipiamo per portare luce per portare positività in questo mondo perché assolutamente ne abbiamo bisogno noi raccontiamo storie di donne eccezionali del Made in Italy sotto ogni punto di vista naturalmente sono storie di donne positivi, di successo questa scappa rossa identifica un po' il simbolo invece che è contro la violenza sulle donne e quindi tutte le donne racconteranno in positivo la loro storia dedicandola proprio alle donne che non possono più raccontarsi come Dorie Ghezzi che ha raccontato la sua storia di testimonianza e divulgazione con la memoria di un grande poeta Fabrizio Di Andrè che ha avuto il piacere di conoscere tanti anni fa e infatti il sottotitolo del nostro programma è proprio la canzone di Marinella che è stata appunto vittima di fenomenicidio quindi io proseguo il nostro viaggio con altre interviste a donne del Made in Italy bianco come la luna il suo cappello come l'amore rosso il suo mantello tu lo seguisti senza una ragione come un ragazzo segue un aquilone e c'era il sole avevi gli occhi belli lui ti baciò le labbra ed i capelli c'era la luna e avevi gli occhi stanti grazie! grazie!